bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su rainbow six e compagnia di snago salutare oggi andremo a provare la nuova modalità outbreak se vedete che non ci saranno i pacchetti outbreak perché ieri l'ho aperti e mi sono finiti tutti allora portate e proveremo per la prima volta no per una volta scherzo proviamo insieme a voi a scelite ragazzi a scelite almeno 20 like per favore please diglielo puri tu alessio snago diglielo e scherz 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 eccola ragazzi vediamo tra poco la vedremo in azione prendi smocco col pompa qua ci si trova di intimo comunque così ci potremmo fare potremmo fare doc e cosa doc finita che sulle lucesi son pass ah si è vero però diglietta che gioca la stasera vaffanculo non ci voglio di aspettare fino a stasera allora 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 guardate ragazzi come cazzo è figo guardate fare una scocciatoia attraverso il seminterrato del paziente zero ma prima dovrei recuperare gli esplosivi si si cazzo allora so che carichi settimana io guardo abbiamo fatto con me bello andiamo al motel se non stanno a motel stanno al garage stanno qua da me le bombe ok una andata per le bombe per le bombe venire da irruzione dai ragazzi tre anni per allo alla fine livello alla vostra posizione 95 che meno male Ecco piero ma siamo in una merda che il sacco di gente O madonna aspetta come farlo solo tra le cariche riduzione Occa muori No, so qui da me, so qui da me, so qui da me, so qui da me, so qui da me Basta che lo porti in giro e da dietro ammazzo PORCA CROIALO Allora, parliamone Oh, Doc, sparali ti prego, sparali Sparali Sparali, sento Piero Cazzo Piero, fatti cura da Doc, fatti cura da Doc Aspetta Cazzo che fa danno Mi prendo un po' di granute Ecco, spartiglia dietro Ecco bella Sparali 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 Cazzo 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 Oddio Cazzo 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 No, ti dà la vita Ah, pure la vita Ok Da tutto Rifornimento totale Ok Sì Ma Ragazzi Cazzo 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 Allora, ora ci sarà un boss di nuovo voglio Rush della finale Ricarica Ricarica Tento Pierro Oh, si sto tanto su Ecco voglio farlo Si sta Fermi La recensione attiva Trovate il modo di togliere la corrente Oh, disattivo la corrente, disattivo la corrente Sta Continua pure ora Scappiamo Dobbiamo Dovete eliminare Tutti i nemici No, attimo, ci salvo sbaglio Quello che crea Quello che crea qualcosa Oh, no Sto Ti proteggo ma lo fa come prima uno distrae dove cerca tutti e due io sto avendo tutti i problemi ma io non devo so come fare il punto debole di questo nessuno ha il punto debole cioè forco c'è un pt di vita a massimo e di ucciderlo così c'è un'altra vita buoni ok quindi è facile come book tattino di vita voglio matrimonio di mira palese piedi mi ascolto io se non me lo registro sto video aspetta ci penso io allora dove vengo ho fatto un cazzo ma tutto solo con le città per ammettura amato mio cura massimo allora eravamo arrivati ieri fino a papiro di ricordi che eravamo morti 50 di vita cazzo quanta gente quanta cazzo in centro dove dovevamo ne devo andare ne devo andare una domanda vado col compagno oggi vado col compagno io fai di granate ma diventa di granate qua c'è uno fuori qua ma di granate dai 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 sopra ripuliamo il piano di sopra aiuto ci sono un po di vita di sopra non c'è nulla maschina c'è un po di vita ok ok passiamo sotto fate saltare quella porta quale porta quale porta quale porta quale porta sto piazzando io le granate c'è le occhi aperti ci vorrà un po per lasciare oltre tutto quell'acciaio coso? no ti prego stanno arrivando oh my god dai ah ma no poi ci va zio qua siamo nella merda zippo dobbiamo proteggerci l'uomo da furdo perché qua verrà tanta di quella gente che madonna eva madonna eva dicono tutti dicono tanto che verrà tutta gente ancora anche da qua sopra anche da qua sopra non ci sta a capire rapide granate esplosivi sotto attacco esplosivi sotto attacco allora prendo un po di munizioni che non stanno affini questo sì che è il potere d'arresto dai non posso attaccare sentate il sento Piero no aspetta un minuto 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 di che ci penso che le granate l'acqua da più le granate vado a prenderle io vado a prenderle io vado a prenderle io vado a prenderle io proteggetemi proteggetemi oh cazzo c'è sta cacca proteggete io io più io le granate bah doc come fa io devo prendere un po di vita prendo un po di sapendo gente tantissima gente fate le munizioni di aspettare aspettati e aspettavo di aspettare aspetta 20 secondi aspettavano 20 secondi le vizie sulla carica allora la carica 5 secondi non voglio oh bella ok aspettate che mi riempi alla vostra posizione aspetta che prendo un po di credo ma l'entriamo dietro sono quanto di questo video a stotticione dove sta da qua a stotticione ma stotticione ci capa oh cazzo no c'ho due di vita c'ho due di vita cazzo c'ho due di vita cazzo doc 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 curami doc curami c'ho due di vita cazzo no io muoio magnissimo butto granata a cazzo no voglio no voglio qui finisce l'avventura granata a fermizzazione che scappo ciao cazzo ti conosce porco acqua sento lì oggi è su ma vaffanculo no mi ha terrato ma è terrato ma è terrato non è che cura io no cura lui cura qualcun altro è bella però che lo scappa scappo fai il giro il giro Poi cura, fai il giro, giro, fai cura No, un po' Poi cura, mi sono fallito Bella, voglio Cazzo Cioè, no, non so come esitarlo sto video Renditi con se non me la salvato, mi incazza veramente Vabbè Bella raga, lasciate like Iscrivetevi e noi ci lasciamo Ci vediamo al prossimo video Bye bye Ciao